meglio che la tengo in mano va comunque dicevo video vlog sono andato a prendere l'alessia e altri due compagni di viaggio francesco e giulia perché andiamo a fare un weekend in montagna il posto lo scoprirete poi nel video ma tanto lo scriverò nel titolo quindi leggerete subito e ci vediamo dopo che ho preso risotto la milanese e carbonara ma risotto è finito è buono? è buono? è buono è buono? è buono? nooo non sei convinta cos'è che non ti piace? eh perchè è quella dell'otto gris questo lo mangia tutti e tu invece raccontaci cosa hai preso io ho preso un tonno di patate hamburger con porcini, pomodoro, bacon formaggio, insana e la madò e patate? zero per rimanere in lì adesso non hai raccontato? no non ho riservato, comunque è meglio va beh, com'è meglio dai siamo arrivati? ahahah c'è una casella di chiave appena sopra il campone c'è una parte d'ingresso ah quello vuol dire la casella di chiave si non ce l'ho più andiamo dentro ok la carta è dell'ingresso principale ok la carta, chiave le altre borse per essere per entrare sarà qui sulla porta di sinistra secondo numero c'è qui la luce c'è qui la luce oh non si sposta è collato la chiave ci vuole qua siamo senza chiave non si entra che è vero racconta questo problema che non abbiamo mai chiave per entrare in camera grazie girati girati racconta 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 ecco com'è holiday 2 o holiday 1? oh ecco ce l'abbiamo fatta eeeeeee che bella cucina cucina metto faccio il tour della camera tour della stanza è un po' grosso il balcone però e poi qui abbiamo camera da letto con dei sacchi a pelo vieni frangetto sacchi a pelo armadio c'è una luce da montare se vuoi montare bella eh caratteristica le montagne lì c'è la neva che si un po' si vede c'è la neva qua alberi colorati non ti piace adesso? piace? è me giulissi invece cosa dici? vediamo il bagno che non l'ho fatto vedere no com'è la luce? si accende la luce del bagno ah eccoci qua questo è il bagno c'è la lavatrice doccia qua frangetto si siede subito e ci rimane tutto bel caldo però dai ci sta ottimo qua biscotti pure allora dai tv modem wifi codice subito attivare touch perchè occupa meno spazio frigo vuoto nooo faccio la mia mi sa io mi sa io la cazza facciamo vedere la tecnologia qua si chiude tutto andiamo 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 ciao nuovo campanello provato campanello funziona direi bello appartamento frangetto mi piace mi piace bello mi piace vito picco ma con niente caratteristico tecnologico la palazzina va freschino freddo si sopra a me è bello andiamo a montagna 8.000 metri adoro ai fornelli ahahah ahahah ai fornelli allora frangetto allora abbiamo fatto un giro in centro sono suonate le campane due volte e sono scomparsi tutti tutti il deserto più totale il gelo oh 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 aspetta Giulia aspetta Giulis Giulis allora ragazzi vediamo qui noi alle prese con piano culturale guarda che c'ho milioni di follower si ho ragione ecco l'hai distrata perché non c'è una lampadina non si vede niente forse a noi hamburger vai fra due pronto Mauro sono le parti pitture non andiamo ecco qua bello quanto sale si intanto ragazzi non sapevo se qua sta andando poi è tutto spento però è tutto attaccato eh no ma perché funziona però devi continuare a agire l'air eh agire l'air con la sale dai forza ecco qua ah ah rrrrr tutta la creazione vedo sempre uguale non è che io non sento neanche un frigitio ci faccio vedere io molto frigitio che non è che non è che non è che non è che quello che fa non è che Allora Pupazzo, ti piace il lago di Braes? Che ne pensi, è un po' freddo però Lago di Braes Allora Pupazzo Allora Pupazzo Allora Pupazzo